a livei regionali U.S. Tabbia Vesevo San Sebastiano due due risultato finale siamo in compagnia di mister Giovanni Macone ciao mister ciao Ciro mister una partita combattuta peccato due errori difensivi due gol subiti sì su due calci da fermo da parentesi due calcio d'angoli è un aspetto che dobbiamo lavorare perché non è la prima volta che prendiamo gol sul calcio d'angolo e sono sfuggite delle marcature abbiamo preso gol si è provato più volte a trovare la conclusione uno su tutti Olando non ha mai mollato fino alla fine sì sì ha giocato buona partita buona intensità abbiamo dato poco ritmo alla partita sì dall'inizio primo tempo troppi errori tecnici poi nel secondo tempo però loro si difendevano bene quindi abbiamo avuto poco spazio a disposizione hai fatto diverse scelte in questa formazione c'erano alcuni ragazzi che magari hanno giocato meno fino a questo momento altri invece erano in panchina altri non sono stati proprio convocati bisogna crescere io penso che la crescita avviene anche a 360 gradi qualcuno che la scorsa settimana ha giocato titolare non è stato convocato qualcuno che ha giocato oggi l'altra volta non è stato convocato è una gestione proprio perché questo è un gruppo che deve crescere ed è giusto anche che ci sia una crescita totale dei ragazzi grazie miss buona giornata grazie hai voglia di pizza fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi di un drink o di un cocktail questo è il posto che fa per te l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta gli ingredienti naturali e tanto amore il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato il buttaziello ondufato chiedetelo provatelo e poi ci direte tipica l'italian food l'incrocio lo puoi trovare a torre annunziata in via vittorio veneto 360 per prenotazioni chiamalo 0 8 1 8 6 2 2 8 3 6 fly line sport veste lo sport il tempo libero da noi puoi trovare tutto quello che ti serve le marche più prestigiose novità di grido tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri adidas nike kappa puma macron e tanti altri il nostro marchio ha garanzia di tuoi acquisti lo sport è passione la passione lo sport e non lo sappiamo bene viene a trovarci via l'europa 51 g a castellammar di sabbia napoli grandi giochi per piccoli giocatori dove da fantasie di antonio procida dove assortimento e qualità non hanno uguali bambini prima di scegliere venite da fantasie la casa dei balocchi più bella che ci sia tutto quello che desiderate ma proprio tutto e altro ancora fantasie giocattoli lo trovate in via da vernola 152 a castellammare di stabia every day is beautiful crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti insegniamo che essere belli non è un sacrificio non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno tutti i giorni della vita offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri ci rivolgiamo con rispetto e professionalità siamo sempre disponibili ti aspettiamo da olshev viene a trovarci a pompei nel centro commerciale la cartiera che si vede anche a un nuovo video che si vede anche a un Grazie a tutti.